Saranno serate di fraternità, di incontro, di dialogo, di ascolto e anche un po' rasserenanti, incoraggianti per guardare alla vita in una maniera più positiva. Sono due termini che riassumono molto di questi dieci anni. Intanto per incoraggiare chi ci ha creduto, tutte le persone nelle due diocesi, prima alla Nosea e poi a Nuoro, ci hanno creduto, responsabili, equip e anche vescovo. Quindi dire avere è importante perché se non hai cuore non vai avanti. Riassume un po' tutto questo ed è uno slogan che si adatta bene al decimo anno e allo stesso tempo programma quelle iniziative di quest'anno in cui veramente le persone hanno una storia di passione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.